1932 inaugurata l'ittoria alla presenza di Mussolini 1935 è la giornata della fede gli italiani consegnano l'oro alla patria 2007 l'assemblea ONU approva la moratoria universale contro la pena di morte commenta il fatto del giorno Luciano Fontana direttore del Corriere della Sera oggi vi parlo dell'abolizione della stiavitù negli Stati Uniti d'America